Hyundai lancia il SUV compatto, ampliando l'offerta e puntando principalmente ai giovani, con un modello Kona realizzato per colorare l'animo e che perciò prende il nome da una regione delle Hawaii. Si tratta di un crossover che non perde le caratteristiche dell'off-road, ha quattro ruote motrici, anche se agile nella guida urbana, misure compatte e cambio automatico. Prodotto su una nuova piattaforma, mostra caratteristiche che lo lanciano nel mondo giovanile, vedi le linee sinuose, i fari a LED, il look accattivante e le nuove colorazioni. Rappresenta quindi il viaggio di Hyundai in un nuovo mondo, dove le richieste per crossover e SUV sono in netta crescita da diverso tempo. Entrando nell'auto troviamo quattro posti comodi, tecnologia moderna con Head-up Display, il Multimedia System per Apple e Android e il sistema audio Krell. Anche il pacchetto sicurezza di Kona è al passo con i tempi, con la frenata autonoma di emergenza e il rilevamento per i veicoli e i pedoni. Importante è anche la sicurezza passiva, perché il telaio, realizzato al 51% in acciaio ultraresistente, la rafforza dando anche maggior dinamismo all'auto. Novità sotto il cofano con nuovi motori, sia diesel che benzina, si tratta del 1000 TGDI da 3 cilindri e 120 CV e del 1600 4 cilindri da 170 CV. Per la cilindrata 1600 è disponibile anche un propulsore turbodiesel. Infine ha una guida alta e agile che può passare da normal a eco o sport, a seconda delle esigenze del conducente.